ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi video sugli acquisti che ho fatto in questi ultimi mesi allora è un po un misto c'è un po di beauty cose un po miste generali per la casa e non e alcune cose di abbigliamento tra cui una cosa di cui sono fierissima e che vi avevo preannunciato anche nel video blog ve la lascio per ultima però perché penso che sia il pezzo forte un affarone così non non mi era mai capitato e invece partiamo dal beauty direi sì in vista del matrimonio sto comprando alcuni prodotti dato che non so se l'avevo già detto ma mi farò il trucco da sola comunque aiutata da mia zia che ha fatto un corso per truppatrice e in più e parrucchiera quindi mi farà lei anche l'acconciatura e però volevo comunque dei prodotti buoni per il matrimonio su cui potessi fare affidamento e già ne sto testando alcuni tra cui allora ho comprato lula di benefit sicuramente tutti quanti lo conoscerete che è questa terra fredda col sottotono freddo io appunto cercavo una terra così e credo che questa sia una delle pochissime a non fare quell'effetto rosso sulle sveguance in caso se io voglio un pochino di colore me lo faccio con il blush e quindi questa è perfetta si fonde bene con il mio incarnato che ha appunto un sottotono giallo è perfetta nulla a dire promossissima già provata quindi un altro prodotto di cui qui ho soltanto la scatola perché l'ho messo di sopra anche se ancora non l'ho provato è il porefessional sempre di benefit come l'aula e è praticamente un primer ho preso la mini size di questo perché non sono abituata prima di tutto lo volevo provare e poi non essendo abituata ad avere un primer sul viso normalmente non lo uso quindi penso che comunque sia una taglia che può bastare per fare qualche test prima del matrimonio e usarlo solamente per il matrimonio dopodiché appunto non sapendo se l'avrei utilizzato o meno dubito che comprerò una full size un altro prodotto che ho comprato è anche questo super famoso è il better than sex e anche questo è in formato mini size perché lo volevo provare volevo provare anche roller lascia sempre di benefit mi pare questo invece di too faced e anche il day are real volevo provarli tutti e tre ho visto che c'è la mini size di tutti e tre quindi sono partita con il better than sex e nulla da dire è un mascara spettacolare proprio come tutte quante dicono e allunga tantissimo le ciglia su di me non fa un effetto molto infoltente ma non ne ho nemmeno tanto bisogno più che altro sono appunto molto nere riesce anche a incurvarle senza appesantirle che di solito è un effetto che purtroppo su di me succede spesso che vengono appesantite e quindi tendono ad abbassarsi questo non me lo fa me li allunga molto e me le fa molto nere quindi sono sono soddisfatta di questo prodotto dopo aver provato gli altri due vedrò se se ricomprare la full size per l'occasione del matrimonio insieme a questi prodottini mi hanno dato anche un campioncino di chanel che vedrò di provare nel video della spesa probabilmente avrete visto queste due paia di calze che in questo momento sono soltanto le scatole perché le ho già utilizzate e sono due collant sanitari riposanti perché lavorando molto spesso molte ore in piedi le gambe si appesantiscono e si gonfiano spesso e quindi ho voluto provarle ed effettivamente fanno il loro lavoro poi sono stata da calzedonia e qui ho preso un paio di calze che cercavo fatte in questa maniera da tempo sono tipo parigine e con un effetto velato fino appunto a sopra il ginocchio e da sopra il ginocchio è un effetto coprente quindi è un tipo di calza che cercavo da un bel pezzo così semplice senza tante lavorazioni perché le avevo trovate ma con molte lavorazioni sia nella parte sotto che nella parte io invece le volevo semplici e queste appunto sono l'ideale le ho pagate se non sbaglio sui 7 euro così come anche le altre due calze sempre sui 7 euro quando sono andata il giorno del blog al centro commerciale sono passata anche da casanova e a casanova ho comprato due yankee candle una cappuccino truffle che l'avevo già presa e mi piace tantissimo ha questo profumo di cioccolato con certe note amare del caffè quindi veramente spettacolare e buonissimo golosissima soprattutto per me adesso che sono dieta è una tentazione e poi ho preso anche vaniglia sempre lo stesso discorso è un profumo molto goloso appunto sa di vaniglia un profumo comunque neutro che può piacere a chiunque entra in casa e quindi va bene anche per gli ospiti senza dare alla testa sempre da casanova ho preso anche questi affarini che non li avevo ancora mai visti da mettere nelle feritoie della macchina per profumare appunto la macchina e ho preso la profumazione black coconut di questo o hanno usato le cialdine perché da qui non si vede e ho paura ad aprirlo finché non le metto in uso le ho pagate 6 euro e ce ne sono 4 dentro l'ultima cosa che ho preso da casanova è questa mascherina e tappi mascherina per per gli occhi e l'ho presa in vista appunto del viaggio di notte perché io per me ce l'avevo già sia i tappi che la mascherina ma luca non ne aveva una e so che anche lui come me è uno molto foto sensibile che gli dà molto fastidio alla luce quindi siccome vorremmo provare a dormire sull'aereo per il viaggio da qui al giappone e ho pensato di prendere le riviste che comunque costavano meno 2 euro e 50 è neutro nero senza scritte per lui è perfetto più semplice meglio è per lui siamo alla parte abbigliamento quest'anno ho notato guardando un pochino le vetrine e le proposte in generale della primavera che andrà molto di moda e il color corallo e il giallo sono due colori che vanno per la maggiore nelle vetrine almeno qua della mia città perciò trascinata appunto da quest'ondata soprattutto del giallo visto che il corallo non è un colore che amo particolarmente o comunque mi piace ma in piccole dosi mentre il giallo prendere in qualsiasi cosa di giallo visto che uno dei miei colori preferiti ho preso da pinky un paio di pantaloni gialli appunto belli primaverili giallo chiaro e gli ho pagati 20 euro in teoria c'è scritto push up ma parliamone sono bei pantaloni gialli push up lasciamolo stare sono dei bei pantaloni gialli lo stesso giorno che ho preso i pantaloni gialli ho preso anche da calliope questa magliettina e se la ritrovo mi ero fatta in camerino una foto con questa accoppiata da calliope e mi era piaciuto molto l'abbinamento quindi ho deciso di prenderla costava 7 euro e 99 si effettivamente un pochino che tanto per una magliettina del genere però non lo mi piaceva ero in vena soprattutto dei colori chiari e ho voluto prenderla tra questi volant sulle spalle e boh mi sembrava carina e l'ho presa un altro dei miei acquisti è questa maglia di terranova e anche questa era una degli ultimi saldi è abbastanza lunghina copre i fianchi e credo di averla pagata meno di 5 euro non so non ho più l'etichetta ma credo di sì che costasse meno di 5 euro era l'ultima taglia sempre una s era l'ultima taglia di questo colore se no erano rimaste tutte le bianche l'ho voluta prendere perché con la primavera mi è venuta voglia di tutto di vestirmi di colori chiari belli come avrete potuto notare dal mio shopping e niente poi costava poco anche se non mi servivano diciamo maglioncini perché ero già a posto con lo scorso video haul sempre da calliope ma in un'altra volta qualche qualche settimana prima se non sbaglio se non addirittura un mesetto prima ho preso anche questo questo vestito spero che si intri nell'inquadratura che ha questi lacci da fare un bel fiocco bon ton diciamo sul collo e una scollatura che non è affatto provocante come sembra dalla stampella copre dove deve coprire che si stringe in vita come i soliti abiti che amo io e poi si allarga sotto è fatto tutto nero con i cuoricini all'allacciatura sul fianco quindi fascia per bene il corpo mi è piaciuto molto e diciamo bon ton è un po sbarattino l'ho preso per fare il servizio per il matrimoniale di un paio di settimane fa anche se purtroppo non sono riuscita a farlo vedere nelle foto perché siamo sempre rimasti con il cappotto perché faceva molto freddo tirava un vetto pazzesco però ho caricato un video con tutti gli scatti o quasi tutti gli scatti che abbiamo fatto su questo canale quindi se volete andatevelo a cercare oppure vi lascerò il link qui sotto sempre per quel servizio prematrimoniale il giorno prima ero disperata alla disperata ricerca di una sciarpa che si intonasse con la mia borsa di desigual su cui ho fatto anche il video what's in my bag alla fine mi sono decisa di comprare proprio la sua quella di desigual e della stessa fantasia appunto della mia borsa e non la volevo comprare perché secondo me questi accessori costano tanto la fortuna ha voluto che proprio il giorno in cui io sono andata a cercarla e avessero tutte le sciarpe al 50 per cento quindi anziché 32 euro che è veramente una follia per una sciarpina l'ho pagata 16 17 non mi ricordo comunque ha fatto appunto un bel effetto ho visto le foto si intravede senza essere invasiva e si abbina perfettamente con la borsa in caso vi metto magari qui qualche foto di quegli scatti bene siamo giunti al momento clou diciamo due sabati fa sono stata da rinascimento e credo che fosse l'ultima settimana che c'era ancora l'angolo dei ribassi ultimi ribassi tra le tante cose io non ci avevo dato neanche più di tanto peso ma sono entrata con un'amica che invece cercava qualcosina in questo angolo e mi è saltata agli occhi questo vestito che non so come riuscirò a far vedere in telecamera ma è così diviso in due sotto è un tubino semplice nero molto aderente e sopra questa parte che finisce più lunga spero che si veda in caso vi metterò una foto stretto in vita con questa cintura dorata mi è piaciuto molto non gli davo molto credito perché non sono una persona da tubino sono sempre vista quei fianchetti un po larghi e non ho mai osato mettere un tubino questo qui però avendo questa parte che copre buona parte del settante tutto il sedere perché dietro veramente lo copre tutto il sedere e lascia scoperta diciamo soltanto una parte l'ho trovato molto adatto al mio fisico me lo sono provato pensavo anche la taglia non mi andasse bene perché appunto essendo gli ultimi ribassi erano rimaste le ultime taglie e quindi questa è una s pensavo proprio che non mi entrasse invece mi entra perfettamente tra l'altro non segna sui fianchi non fa quel brutto effetto in tanda stretta non so se mi spiego è brutto da dire ma è così e questo non me lo fa per niente mi fa il fianco bello dritto niente da dire ho ricevuto tanti commenti positivi e la parte migliore di questo affare è stato mi sono tenuta lo scontrino la parte migliore di questo affare è stato che il vestito costava 99 euro non so se si può vedere spero che metta fuoco costava 99 euro e io l'ho pagato 20 non entravo nemmeno diciamo prima di quel giorno da rinascimento perché pensavo appunto di non potermi permettere niente invece penso che ogni volta che ci saranno i saldi da oggi poi ci andrò e guarderò perché con questo tipo di sconti scusate la voce ma mi sta cominciando ad abbandonare credo di aver preso un po freddo questo è tutto il mio shopping di questi ultimi mesi io spero che vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti se avete qualche trucco più che altro da consigliarmi da provare prima delle nozze che appunto possa essermi utile per il trucco nozze e io vi mando un bacio ci vediamo al prossimo video ciao